Visto che c'è stata poca sintesi nelle domande, vi chiedo sintesi nelle risposte. Mi dispiace ma ci sono già altri auditi in attesa, quindi vi chiedo molto cortesemente la massima sintesi. Per parte mia sarò molto sintetico. L'onorevole Boschi ha perfettamente ragione quando intuisce che la Costituzione dà un menu, uso le parole di Zaia, cioè una cornice, entro la quale si valutano alcune funzioni. Non prendo tutto. Quando Zaia dice, proprio perché un menu ordino tutto, dice una cosa che nessuno di noi fa. Se va al ristorante e ci sono 23 portate, nessuno ordina le 23 portate. Le altre due le accorpo, onorevole perché sul tema demografico l'Istat commette un errore clamoroso quando fa le previsioni al 2080 perché ci dà il segnale di dire vabbè c'è tempo. In Italia gli ottantenni stanno per diventare di più dei diciottenni e non succederà nel 2080, nel 2050, ma nel 2027. Quindi il tema è adesso. È ovviamente molto più forte nei piccoli comuni, non solo del sud, che sia chiaro, ma stando all'istruzione, noi oggi, 2024, fa bisogni standard dell'istruzione, noi abbiamo certificato in Italia che un bambino di 3-14 anni residente a Bari ha un diritto, un fa bisogno di 700 euro. Lo stesso bambino, residente a Bologna, 1200 euro. E visto che noi siamo un paese civile, una famiglia agiata di Bari, che paga molto addizionale IRPEF al suo comune, paga un IMO adeguata perché magari ha più case, con i suoi soldi il comune di Bari nel fondo di solidarietà comunale e solidale con Bologna, perché Bologna ha un fa bisogno più elevato. Questo è il modello che abbiamo messo in piedi in questo momento, dove ovviamente le persone cosa intuiscono? Mi sposto da Bari a Bologna. Prego, professore Astone.